Ciao. Bentornato al programma tv di oggi con notizie come. Francesca Fialdini. Nota conduttrice Rai. Ha avuto un brutto incidente inaspettato che le ha fatto vivere momenti drammatici. Giornalista e conduttrice. Francesca Fialdini classe 1979, ha vissuto attimi di paura qualche giorno fa e ha condiviso la sua esperienza sui social. Spesso condivide sul suo profilo Instagram alcune riflessioni. Foto e video sulla sua vita privata e professionale. Come questa volta. Fialdini di recente è alla conduzione del programma a ruota libera. Ma ha avuto anche esperienze in tv come la fiction Un passo dal cielo. Non era pronta a vivere una cosa come quella che è capitata di recente e l'ha messa a dura prova. Ecco cosa è successo. Il dramma di Francesca Fialdini. Un mese e mezzo fa mi si è rotto il telefono. Sono caduta su una lastra di ghiaccio. Il cellulare è uscito dalla tasca della giacca e si è spento. Dentro avevo i ricordi degli ultimi due anni. Foto e video a cui mi ero dedicata per avere sempre con me chiamo profondamente. In un attimo quella memoria è andata in blackout, e sembra essere irrecuperabile, ha scritto Fialdini su Instagram. In particolare ci è rimasta molto male per alcune foto e video insieme alla nonna anziana. Mi dispiace moltissimo. Con la nonna Gianna avevo registrato momenti teneri e anche importanti per noi, per la nostra famiglia. Questa foto è recente. Ma lei che racconta la resistenza e i suoi ricordi di ragazza, purtroppo non ce l'ho più. Ad ogni modo qui vedo due donne che si somigliano tanto. È solo la mia immaginazione? Una perdita importante. In un film italiano si dice che il telefono è ormai come. La scatola nera della nostra vita. E in questo caso Fialdini se ne è resa conto. Ormai conserviamo lì quasi tutte le nostre esperienze. Ricordi e documenti importanti. Quindi perdere il cellulare può essere davvero una tragedia. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Grazie per aver guardato il video. Grazie a tutti.